Accusano il presidente della regione campagna Vincenzo De Luca di essere venuto meno alla parola presa con Ampal per proseguire il percorso relativo all'assunzione in campagna dei 471 navigator che hanno superato la prima fase di selezione. È il motivo che ha spinto oggi il meetup amici di Beppe Grillo di Salerno a manifestare sotto i portici del palazzo di città. La vicenda oltre a danneggiare navigator penalizza anche i percettori del reddito di cittadinanza campani che nella nostra regione non godrebbero delle stesse opportunità di altre parti d'Italia in cui il percorso è stato completato e quanto hanno fatto presente i grillini che temono un tentativo di strumentalizzazione politica della vicenda in vista delle regionali 2020 e del mancato accordo tra il Movimento 5 Stelle e il PD a sostegno della ricandidatura di Vincenzo De Luca. Io sono uno dei 471 navigator che dopo quattro mesi di protesta sono riusciti a far firmare a De Luca e all'Ampal un accordo il 17 ottobre. Purtroppo però questo accordo è durato meno di 20 giorni perché sappiamo da un comunicato ufficiale di Ampal che la regione Campania ha rifiutato di firmare la convenzione con Ampal prevista appunto dall'accordo del 17 ottobre e che ci sarebbe permesso di essere contrattualizzati da Ampal. Che modo pensate di protestare? Quale altra iniziativa pensate di fare? Allora ci stiamo mobilitando, noi non abbiamo abbandonato le speranze, siamo molto più arrabbiati di prima, sappiamo che le istituzioni si vedranno a breve, la nostra presenza sarà lì a ricordare che noi non ce ne andiamo, noi non cambiamo idea, noi siamo più arrabbiati di prima e aspettiamo risposte da loro. Il vostro timore è che De Luca stia facendo tutto questo per motivi politici, che stia strumentalizzando la vicenda per arrivare poi a capire se i 5 Stelle sono con lui o no? Allora è probabile, noi sappiamo come operano le persone che sono in politica da tanti anni e che hanno assunto questo ruolo come professione. Viene utilizzata la possibilità e il ruolo politico di scelta in termini di ricatto rispetto a determinate condizioni future che potrebbero accadere. Ovviamente a noi come gruppo di attivismo civico questo discorso non interessa minimamente, pensiamo semplicemente che questa classe politica vada superata, quindi è chiaro che non riteniamo sia questa la modalità giusta per portare un contributo nella politica sia locale che nazionale. Presente questa mattina sotto i portici di Palazzo di Città Salerno anche il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Michele Cammarano. Qui siamo in Panna, in Campania, unica regione in Italia a non avere la firma e quindi non avere i navigator che possono indirizzare i ragazzi e quindi stiamo combattendo su questa cosa. Sembrava che tutto si fosse risolto e ringrazio anche il difensore civico che sta facendo pressione per arrivare alla fine di questa situazione incresciosa per tantissimi ragazzi che hanno fatto un normalissimo concorso, hanno superato il concorso e ora non si capisce perché ci sia di nuovo questo cambio di passo. Il governo ha fatto tutto quello che poteva fare, ha addirittura accettato anche di modificare alcune cose all'interno della programmazione e De Luca ha deciso di non firmare.